Un tatuaggio è stato fatale, catturato un malvivente incastrato proprio da un tatuaggio che aveva sulla mano. Si tratta di un 23enne romano, appartenente alla nota famiglia dei Bevilacqua e già conosciuto alle forze dell'ordine per diversi crimini commessi in passato. Nell'ultimo mese il delinquente è stato molto attivo, compiendo ben 5 diverse rapine nella zona di Cinecittà. Il ragazzo ha colpito due farmacie, una il 3 ottobre e l'altra il giorno seguente. Poi il 22 ottobre è stata la volta di un supermercato. Infine il 25 del mese scorso è stato rapinato prima un altro supermercato e poi nuovamente un'altra farmacia. Quando il criminale agiva aveva sempre la stessa attrezzatura, motorino, casco, passamontagne per coprire il viso e un paio di guanti per coprire le mani. Quasi sempre i guanti, tranne nell'ultima rapina messa a segno, dimostratasi poi fatale per la sua cattura. Nell'ultimo colpo il mavievente ha agito a mani scoperte e grazie alle telecamere di sorveglianza i carabinieri sono riusciti ad identificarlo. Gli agenti l'hanno cercato nei luoghi che solitamente frequentava, fino a quando è stato sorpreso mentre si aggirava nel quartiere Don Bosco. Il 23enne è stato poi arrestato in un bed and breakfast, nel quale alloggiava sotto falso nome e nella camera della struttura è stata rinvenuta una pistola calibro 7,65. Successivamente le forze dell'ordine hanno trovato anche il mezzo usato per mettere in atto le rapine. Si tratta di uno scooter nero rubato al cui interno sono stati ritrovati il passamontagna, due caschi e quel paio di guanti. Grazie.